Salve a tutti, ti avviso, questo video lo sto registrando così, debotto, senza senso, abbraccio, senza montaggio, né tagli di nessun tipo, né grafiche, perché? Perché volevo realizzare il video più in fretta possibile, con il contenuto, per tranquillizzarti, o forse no, nel senso che ieri sera sono state pubblicate alcuni giornali, il Corriere della Sera, la Repubblica, eccetera eccetera, hanno divulgato una bozza di decreto rilancio, bozza che io ho preso e ho anche analizzato in alcune parti, specificando bene all'interno del post su Instagram e su Facebook, se non mi segui ovviamente ti invito a seguirmi, ti lascio il link in descrizione, specificando che questa è una bozza, ora ripasso di diritto costituzionale, diritto politico, la bozza approvata dal governo passerà poi alle commissioni, dalle commissioni subendo eventuali modifiche passerà alla Camera, la Camera discuterà questa normativa, la legge di bilancio, dove abbiamo all'interno della legge di bilancio, super bonus, pensioni, incentivi, c'è di tutto e di più, non c'è solo super bonus, sia chiaro, quindi verrà discussa in Parlamento, alla Camera, poi passerà al Senato, verrà emendata, discussa e così via, e poi verrà approvata, questo nel mese di dicembre, quindi fino a dicembre non sappiamo niente, quello che leggiamo all'interno della bozza può darci un'idea, ma non dobbiamo prenderlo come oro colato, quindi che cosa c'è dentro questo documento? dentro questo documento abbiamo una prima proroga per tutti i lavori iniziati prima del 30 settembre, se non erro, cioè sto andando a braccio, dite demo ricostruzione, quindi una proroga ragionata per chi ha già iniziato i lavori, ma per motivi di burocrazia, per motivi di approvvigionamento merce, forse non riesce a terminarli e non è sicuro di terminarli entro il 30 giugno per le unifamiliari, quindi possiamo prendere spunto da questo riferimento qua, sul fatto che c'è questo pensiero, c'è di dare la priorità, di dare eventualmente precedenza alla proroga per chi ha già iniziato i lavori, ma per tutti coloro che per motivi tecnici forse non sono riusciti a portare a termine i lavori o hanno subito dei ritardi. Seconda proroga per le unifamiliari, sempre, fino a fine anno con ISE inferiore ai 25.000 euro, ne ho già parlato su Instagram, su Facebook e ti sintetizzo anche qua quella che è la mia opinione il riferimento ISE teoricamente, concettualmente, filosoficamente può avere senso perché vado a incentivare le persone che ne hanno davvero bisogno, ma l'abitazione di proprietà potrebbe già essere un piccolo limite per avere l'ISE sotto i 25.000 euro, idem, le eventuali spese extra che possono essere, soprattutto ad inizio lavori, quindi spese di progettazione, di studi preliminari, forse, visto che parliamo di spese di circa 2, 3, 4, 5.000 euro sono spese che chi ha l'ISE sotto i 25.000 euro non è in grado di sopportare, ok? Idem, eventuali spese extra che escono dai massimali, abbiamo già approfondato il suo discorso se hai l'ISE sotto i 25.000 euro potrebbe non essere fattibile, ci ho detto questa è la situazione, dobbiamo capire se ci sono o meno le condizioni, se sarà davvero così se questa soglia qua rimarrà, verrà alzata, verrà eliminata, questo non lo sappiamo poi abbiamo una proroga, quella cicciosa, per i condomini, per le abitazioni plurifamiliari, unico proprietario fino a fine 2023. Questa proroga qua dà anche un'idea di quelle che sono poi gli scaglioni, perché nel 2024 la detrazione dal 110 passerebbe al 70 e poi nel 2025 passerebbe al 60%. Proroghe fino al 2025 per l'articolo 121, che è quindi lo sconto in fattura, la cessione del credito e proroghe anche lì qua, fino al 2025 per ecobonus e bonus ristrutturazioni, quindi 65% anche se è una semplificazione e 50%. Quindi queste sono le direttive, le linee guida, le ipotesi che il governo ha messo in campo da lì alla realtà non sappiamo niente. Perché? Perché lì è ancora complesso, ci sarà una mediazione da parte dei politici da parte di vari gruppi parlamentari, quindi non prendiamo questo come oro colato, ok? Quindi tranquillizzatevi. E a tutte le varie domande che ricevo e altri miei colleghi ricevono, ma se io ho iniziato i lavori e poi l'ISE, ma l'ISE quando si calcola ma allora il bonus facciate? Ah ecco, il bonus facciate forse scende al 60%, però tra tutte queste domande qua non possiamo dare risposta. Perché? Perché abbiamo sì questa bozza che deve essere convertita, quindi ripeto, questo è il messaggio fondamentale del video. Non credere alla bozza, però prendendo questa bozza poi ci saranno eventuali decreti attuativi, poi ci sarà l'Agenzia delle Entrate, l'Enea, l'abbiamo già vissuto, poi forse se stai guardando questo video no, ma già l'anno scorso da maggio che c'è stato il decreto rilancio, ad agosto quando poi è stato convertito in legge, a ottobre quando ci sono usciti i decreti tecnici, quindi requisiti minimi, asseverazione eccetera, ci sono tanti enti che bisogna coordinare, l'Agenzia delle Entrate, l'Enea, il Ministero e quindi crea tanto casino. Fasciarsi la testa adesso sulle domande, sull'ISE, non l'ISE, ma il bonus facciate, ma io ho iniziato i lavori, ma allora è tutto tempo perso. Quindi volevo dirvi godetevi il weekend dei Santi, rilassatevi, non impazzite, non sclerate sui vari gruppi Facebook cercare chiarimenti, domande, perché parliamo solamente di aria fritta. C'è una base, quindi sì, prendiamola, questa base studiamola, ragioniamola, teniamocela come speranza eventualmente, come perplessità o come paura, ma è una base. Da qua fino a dicembre, quando poi ci saranno notizie certe, può cambiare tutto il contrario di tutto. Ok? Niente, per oggi questo video flash è tutto. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo contenuto. Seguitemi su Instagram e su Facebook per rimanere aggiornato, perché lì quotidianamente è molto più facile realizzare video, perché, ripeto, per me è fondamentale mantenere alta la qualità del canale YouTube. Già questo video qua va fuori dai miei schemi, ma era fondamentale realizzarlo. Però capite che fare delle storie su Instagram ha una semplicità maggiore rispetto a registrare un video e montarlo. Quindi seguitemi su tutti i social, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non volete perdervi altri video. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne?